Parliamo della seconda e conclusiva giornata di Abruzzo Economy, gli stati generali dell'economia e per sentire cosa è accaduto questa mattina abbiamo in collegamento in diretta Gigliola Edmondo che saluto. Buon pomeriggio Gigliola. Buon pomeriggio a te Paolo. È un momento di pausa qui alla seconda e conclusiva giornata dell'Abruzzo Economy Summit. Gli stati generali dell'economia riuniti all'Aurum di Pescara con Diego Martelli. Anche oggi siamo qui per seguire gli interventi, tanti rappresentanti del governo. Questa mattina è stata la volta del ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR Raffaele Fitto. Un intervento nel quale ha puntato l'attenzione sulle opportunità offerte sia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ma dalle ZES, le zone economiche speciali, la futura ZES unica per il mezzogiorno, i fondi messi a disposizione dall'Europa e dal governo che sta lavorando per la crescita di tutto il territorio nazionale ma l'elogio che è arrivato dal ministro Fitto a quanto sta facendo il governo guidato dal presidente Marco Marsiglio sui progetti in itinere da realizzare e anche del ruolo delle imprese in questo contesto. Ma se la regia è pronta, quindi Danilo Cinquino ci può mandare una parte, un contributo filmato con alcune dichiarazioni rese dal ministro Fitto alla stampa proprio al termine del suo intervento. Il PNRR è mai definito, quindi la riprogrammazione delle alcune opportunità e c'è un confronto che per esempio la regione può svolgere coordinando in modo positivo questo ma poi dobbiamo lavorare sugli altri programmi, la coesione, il fondo di sviluppo e coesione. Ritengo che la regione, in questo caso il presidente Marsiglio, anche con questa iniziativa ma non solo, possa essere naturalmente l'interlocutore che può fare sintesi rispetto all'interlocuzione col governo. L'Abruzzo da una piccola area diventa per l'intero zona economica speciale come lo diventano tutte le altre regioni. È un grande progetto approvato dalla Commissione Europea che prevede semplificazioni, accelerazioni sul quadro autorizzativo, opportunità di carattere fiscale. Quindi mi sembra che sia una grande opportunità nella quale il governo crede e sarà l'occasione anche per poter dare all'intera area del Mezzogiorno d'Italia, delle otto regioni interessate, una prospettiva nel Mediterraneo e a livello internazionale. Quando si parla di ZES parliamo di imprese. Questa mattina all'evento e questi giorni a Pescara ci sono i rappresentanti di tutte le imprese abruzzesi. Cosa devono fare per mettere a frutto i fondi e tutti i progetti che adesso è stato elaborando, che la politica sta elaborando attraverso anche il PNRR? Intanto la nuova ZES, il cui decreto legge va in conversione nelle prossime ore, nei prossimi giorni in Parlamento, è un provvedimento che prevede un piano strategico. Sarà quello il momento e il luogo del coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e anche delle parti sociali, delle organizzazioni di categoria per avere tutti i suggerimenti. Le imprese sono fondamentali, saranno protagoniste assolute di questo nuovo impianto e di questa nuova prospettiva. Ecco, Giulio, la si diceva giornata seconda e conclusiva giornata, però c'è ancora il pomeriggio. Come continuerà adesso? Sì, Paolo, le conclusioni saranno affidate al presidente Marco Marsiglio, ma è molto atteso l'intervento per la chiusura dei lavori del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, che arriverà nel primo pomeriggio, dovrebbe visitare anche una azienda del territorio, a fammeccanica di San Giovanni Teatino, noi seguiremo anche questa tappa del ministro e ti segnalo per la mattinata interventi molto interessanti, quelli del senatore del Partito Democratico Antonio Misiani, ma anche del giornalista saggista Federico Rampini. Nel pomeriggio ci sarà in apertura dei lavori, quindi tra poco, il vice ministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, che parlerà di riforma fiscale e una sfida per la crescita. Se non hai altre domande, io ringrazio Diego Martelli e ti restituisco la linea.